Musica 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 Buongiorno a tutti, sono Marco Astore di Bigilog e vi do il benvenuto al primo giorno della fiera Maxpe di Bologna. Più che un semplice fornitore è produzione. Questi sono i nostri due principi che vogliamo far trasparire all'interno di questa fiera. Come mai più che un semplice fornitore? Bigilog da inizio 2022 ha iniziato a produrre in casa, quindi in Italia, i profili tubolari in acciaio rivestiti in ABS di diverso colore. Fattura delle forniture, aumento dei costi della materia prima e logistica in affatto. Bigilog ha scelto di agire e di innovarsi. Quindi da oggi Bigilog è in grado di offrire tutti i vantaggi della lima l'ufatto. Dalla produzione, passando per la progettazione, fino alla realizzazione della soluzione. in grado di migliorare e ottimizzare i vostri processi di intralogistica. Se vuoi saperne di più, non ti resta che partecipare all'evento e venire a visitare il nostro stand presso Padiglione 33 Stand A20. Bigilog, be clever, work better!